Grazie a tutti. Per diversi motivi, il primo, perché io ho due primati, lo mettiamo come battuto, due primati, uno di essere stato il più giovane miglior semigliore del mondo, quindi sono rimasto tale, il secondo che sono rimasto piccolo e che quindi quando sono vicino ai miei colleghi sono sempre più piccolo, quindi per farmi vedere mi alzo, questo è il motivo perché di solito è questo. Poi ho visto, osservavo prima mentre ho seduto, che da lontano faceva una fatica ad osservare e vedere, quindi ho detto forse se mi alzo è un modo anche per comunicare meglio. Ringrazio Alberto per questo invito, perché è la prima volta che come Sommelier mi parla di parlare di un pubblico così vasto, di persone così importante, parlare di acqua, di acqua minerale. Nel solito ci si aspetta che un Sommelier parli di vino e invece questa volta sarà un po' diverso. Perché si parla di acqua? Parto dalla definizione internazionale di Sommelier che è stata codificata in una risoluzione, una recente risoluzione dell'OIV, che è l'Organizzazione Internazionale della Vita del Vino, nella quale si dice che il Sommelier è una spiegazione molto lunga. Comunque la parola vino non c'è, parla di bevande. Ora perché si parla di bevande e non di vino? Perché nella ristorazione non c'è solo il vino, ci sono anche le altre bevande. Sicuramente per noi, che siamo un paese del vino e altri paesi in Europa dove si produce vino, che sono conosciuti tradizionalmente anche per il vino, si parlerà più di vino. Quando si va in altri continenti, si parla di altri continenti, altre culture, altre abitudini alimentari, le bevande prevalentemente non sono il vino ma saranno altre. Quindi il Sommelier deve conoscere, comunque le deve saper apprezzare, valutare, analizzare, scegliere in rapporto la loro qualità ma soprattutto poi abbinare a tavola con i vari cibi. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere un numero molto importante di acque minerali e un giorno, diversi anni fa, incontrando una persona del settore, mi disse ma perché noi che abbiamo tante acque minerali non le codifichiamo? Dice noi, i francesi hanno codificato la cucina, gli italiani devono codificare le acque minerali. Come battuta, ovviamente. E la cosa mi stimolò perché già, per conto mio e nel tempo, avevo in qualche modo dato importanza alle acque minerali nel ristorante, nel ristorante che ho lavorato, con una piccola scelta, perché ho avuto la fortuna di nascere in un piccolo paese con le fonti termali. E da sempre mi aveva incuriosito il fatto che le acque delle fonti termali non fossero uguali, così come le acque in bottiglia. Quindi, iniziando poi il lavoro e la carriera come sommelier, mi ero così anche divertito ad analizzare dal punto di vista organolettico le acque minerali e a scoprire che effettivamente non sono tutte uguali e che ciascuna di essa ha un carattere diverso, un modo diverso di essere bevuta e apprezzata e anche nell'abbinamento può dare e dà sicuramente risultati molto diversi da seconda di come la si vuole abbinare. Ora, questa cultura dell'acqua minerale a tavola, considerata come tale, come una bevanda importante, non voglio dire come il vino, ma sicuramente importante perché dà un forte contributo a valorizzare sia il cibo che il vino, non viene quasi mai presa in considerazione. Perché siamo talmente abituati, quando andiamo al ristorante come a casa, a ricevere la domanda vuole l'acqua gasata o naturale? Che è la prima domanda sbagliata che viene fatta, che noi rispondiamo una o l'altra a volte tutte e due. E poi sbagliano sempre, e la sbagliano quasi sempre. Ora, cominciamo da qui, perché la domanda è sbagliata? Perché l'acqua minerale è sempre naturale, basta leggere le etichette che sia frizzante e non gasata o piatta, quindi senza anidride carbonica, è sempre naturale. Ora, è il primo errore che viene fatto e dovrebbero essere gli addetti ai lavori i primi a comunicare al cliente il modo corretto di chiamare l'acqua col suo nome. Perché chiamiamo il vino i vini? Non diciamo bianco e rosso, sì, al limite lo possiamo dire, se vogliamo fare una macro scelta di un prodotto da bere a tavola. Il vino lo scegliamo per tipologia, per denominazione, per produttore. Perché non farlo con l'acqua? Perché non chiamare l'acqua col suo nome? Se abbiamo una scelta di due acque, è facile, se ne abbiamo dieci può essere altrettanto facile, però bisogna dire il nome esatto e poi aggiungere eventualmente con le due parole sulle caratteristiche principali che anche le acque minerali hanno. Le acque minerali sono molto diverse ovviamente dall'acqua da rubinetto, che viene molto spinta e pubblicizzata negli spot televisivi, dicendo che l'acqua ha costo zero anche qui, più o meno, che però è un po' una falsità, se vogliamo vedere, perché tutte le acque che non sono minerali sono addizionate di prodotti per la conservazione. Quindi non sono poi così buone come dovranno essere. Soprattutto le acque da rubinetto presentano spesso e volentieri dei grandi difetti dovuti, intanto non è un'acqua pregiata perché viene da un sottosuolo abbastanza, sono delle falde acquifere che sono appena nel sottosuolo, quindi non hanno grandi proprietà e poi devono essere in qualche modo addizionate per la conservazione, per allontanare eventuali batteri, eccetera. Quindi questi prodotti alterano in qualche modo il profumo o il gusto dell'acqua, senza contare poi la sosta nei depositi, nelle tubature, eccetera, che possono influire altrettanto in modo negativo alle loro caratteristiche ornodolettiche. Quindi andiamo bene a qualcosa che non è buono per intenderci. Le acque minerali non hanno queste caratteristiche perché possono variare di gusto, di profumo, di gusto e di sapore quindi, in rapporto al contenuto di minerali. Il contenuto di minerali da dove viene? Dal terreno, a seconda dei terreni, a seconda del percorso che fanno, che mediamente è molto lungo, va da almeno da 10 a 30 anni a seconda delle acque, ovviamente lungo questo percorso assimilano determinati minerali, ci mettono paracchio tempo ovviamente, e a seconda della profondità o meno della sorgente, ecco che le arricchiscono di tante caratteristiche date da questi minerali per le quali le rendono diverse, quindi più o meno mineralizzate, quindi a seconda che poi sia piatta o frizzante il gusto può cambiare sicuramente. L'addizionamento di carbonica è l'unica cosa che si può addizionare veramente dell'acqua minerale perché da una parte è un conservante, ma favorisce anche la percezione di alcune sensazioni e per alcune le rende molto più equilibrate di quante non appaiono quando sono piatte, perché quando contengono molti minerali a volte sono un po' pesanti, diciamo così da apprezzare, perché la mineralità appesantisce un po' l'acqua, aggiungendo la carbonica ovviamente fa ritornare, dà un equilibrio che non ha, perché dà quella punta di acidità che serve per creare l'equilibrio, e quindi anche una persistenza gustativa che poi ci serve nell'abbinamento che vi spiegherò tra poco. Allora dicevo, l'acqua va chiamata per nome innanzitutto, chiamata per nome, comunicata per nome e richiesta per nome, ci si capisce perché in Italia si può fare, all'estero è un po' più difficile, però devo dire che io che viaggio parecchio in tutto il mondo, sono più gli stranieri che chiamano l'acqua minerale con il loro nome che noi, noi diciamo acqua, come dicevo prima, gasata o naturale, e non le chiamano con il nome, forse perché non le hanno queste acque, e forse perché le devono pagare anche di più, le chiamano per nome, così sono sicuri che arrivi esattamente in tavola quello che hanno chiesto. Quindi chiamarle per nome è la prima cosa, poi c'è il momento adatto per consumarle, l'acqua si può consumare da inizio pasto fino a fine pasto, se però vogliamo fare l'abbinamento, è il momento più adatto per ordinarle, e dopo aver ordinato tutto il resto, cioè il cibo ed eventualmente il vino, e poi vi dico come. Anche l'acqua come il vino, o come tutte le bevande, ha bisogno di essere servita ad una temperatura adeguata, perché se noi serviamo un'acqua minerale fredda, cioè al di sotto mediamente degli 8 gradi, andremo a percepire esclusivamente le sensazioni termiche, quindi nessun sapore, solo il freddo. Se invece dovessimo servire una temperatura che va oltre i 15 gradi, si può bere, è uno che si possa bere, però cominceremo a sentire una disarmonia di gusto, perché va a snaturare quello che è il suo equilibrio di percezione delle varie sensazioni, soprattutto minerali. A questo punto, se la manteniamo tra gli 8, mediamente i 15 gradi, e poi la serviamo alla giusta temperatura, a seconda anche della stagione, ecco che la potremmo apprezzare molto di più. Anche perché bisogna dire che se l'acqua è troppo fredda, abbinata a un vino a temperatura ambiente, crea un po' una disarmonia gustativa. Così come per il cibo. Quindi l'importante è anche la temperatura, così come anche la scelta del bicchiere più adatto. Parlo di bicchiere, non di calice, perché il bicchiere è quello senza gambo, per intenderci, il calice è quello col gambo. Perché oggi c'è anche la scelta di bicchieri più adatti a valorizzare la percezione delle sensazioni delle acque. Ora, a parte il colore, perché l'acqua non ha colore, è in colore, e una volta si diceva che l'acqua non ha niente, cioè non ha né colore né niente, invece non è vero, a parte il colore, dicevo. Il profumo ce l'ha, e questo dipende sempre dal terreno e da dove arriva. Il sapore è sicuramente molto più facile da percepire, perché se non si è abituati alla degustazione delle acque, è difficile percepire determinati aromi, però vi assicuro che ci sono. In bocca si sentono meglio le differenze. Le differenze, come dicevo, sono date da questi minerali, perché possono essere più o meno morbide, più o meno dure, e basta mettere in fila dieci acque diverse, degustarle l'una dopo l'altra, e riuscite immediatamente a percepire queste differenze. Ma la cosa più importante, è la persistenza finale che ci servirà poi al momento dell'abbinamento. Quindi, le acque vanno scelte in rapporto al gusto personale, al tipo di minui che si vuole proporre, ma anche in abbinamento al vino, perché noi abbiamo i vini. E quindi in che modo si procede a questo abbinamento? Si procede, vi do una chiave di lettura che vi può facilitare la scelta delle acque minerali. Mediamente, diciamo una regola a carattere generale, è quella di scegliere le acque piatti in abbinamento ai vini bianchi, non passati in legno, passati in barrica per intenderci, cioè in botte non tostate. Per i vini rossi, l'acqua frizzante è meglio, e per i vini dolci, va bene ancora l'acqua piatta, in alcuni casi l'acqua frizzante. Cosa fa cambiare la scelta, o anche per gli sfumanti, cosa fa cambiare la scelta di un'acqua piuttosto che un'altra? Noi parliamo di sensazioni, di percezione di sensazioni. Il vino ci dà certe sensazioni, percepiamo l'acidità, la morbidezza, eccetera, via di seguito, ma anche la persistenza in bocca. Nell'acqua cosa abbiamo? Abbiamo anche qui la morbidezza, l'acidità, la mineralità, la persistenza. Quindi l'abbinamento va fatto in funzione anche di questo. Ma soprattutto, l'acqua quando viene servita insieme al vino non deve interferire sulle caratteristiche organolettiche del vino. Cioè quello che può fare, il suo compito è quello di aiutare a valorizzare queste sensazioni, così come lo fa con il cibo. Cioè non deve alterare assolutamente queste sensazioni. Allora, la scelta che vi ho detto in linea generale è quella di fare quindi con un vino bianco non passato in legno un'acqua piatta, viceversa con un rosso un'acqua frizzante. Perché? Perché l'acqua piatta ha come componente principale la morbidezza, la sofficità, la bassa mineralità, normalmente, che è una concordanza di sensazioni che si abbina molto bene soprattutto all'alcol del vino e favorisce la percezione in parte dell'alcol ma soprattutto valorizza la sensazione di freschezza del vino. Cosa che si vuole ottenere come effetto quando si beve un vino bianco di quella tipologia o anche i vini frizzanti e spumanti. Per il vino rosso, invece, abbiamo la componente in più che è il tannino. Col tannino, che tende a prosciugare le papille gustative e quindi creare anche quella sensazione di sacchezza, di astringenza e a volte di amaroniolo, abbiamo bisogno di riattivare la salivazione. La carbonica, oltre alla complessità che ha un rosso rispetto a un bianco, in genere, la carbonica ha la funzione proprio di riattivare la salivazione in bocca e quindi in quel preciso istante si comincia a creare l'armonizzazione delle varie sensazioni e quindi il tutto diventa molto più piacevole da essere consumato. Teniamo sempre presente la persistenza perché mentre ai vini bianchi c'è poca, in genere, la persistenza è più breve rispetto ai rossi, quindi un'acqua piatta che ha meno persistenza è più adatta, mentre l'acqua addizionata di carbonica diventa più lunga di persistenza in bocca, quindi la durata dura qualche secondo in più, quindi è meglio abbinabile quindi il vino rosso che ha questo tipo di persistenza. Con i vini dolci ancora una concordanza di sensazione perché lo zucchero richiede sempre morbidezza e quindi va bene in acqua piatta a meno che sia un vino che sia stato passato in legno, che abbia delle ossidazioni naturali come possono essere i vini licuorosi o i vini tipo il Marsala per intenderci che allora per effetto dell'elevata quantità di alcol e dell'ossidazione necessita di un'acqua con maggiore complessità quindi sempre frizzante. Per i vini e poi può ovviamente influire anche da vitigno bianco da uve bianco ed uve rosse per i vini spumanti e frizzanti ovviamente più il vino è leggero parliamo di un frizzante di un prosecco eccetera ora l'acqua piatta va bene se parliamo di spumanti metodo classico con senza nata ma con qualche anno di sosta sui lieviti dove raggiungono una maggiore complessità evidentemente è meglio abbinare un'acqua frizzante. Ecco procedendo in questo modo si ottiene un miglior risultato perché pensate cosa si fa a tavola si mangia un boccone si vastica si deglutisce quindi si hanno delle sensazioni in bocca si fa seguire un sorso di vino che è quello che è stato scelto per l'abbinamento per creare una piacevolezza di armonia in bocca e poi subito dopo si può far seguire dell'acqua che è stata scelta perché in questo modo crea l'unione di tutte le sensazioni le enfatizza le fa apprezzare ancora di più e aumenta la sensazione di piacevolezza e poi si può riprendere da capo quindi nell'abbinamento si procede in questo modo si sceglie un piatto si sceglie il suo vino l'acqua segue il vino non c'è un abbinamento diretto in questo caso quando c'è una bevanda di mezzo è ovvio che se non ci fosse nessun'altra bevanda oltre all'acqua in all'abbinamento la scelta è più semplice perché con i piatti leggeri un'acqua piatta con i piatti più robusti più complessi ovviamente più strutturati ovviamente un'acqua frizzante perché in genere ha questo tipo di caratteristiche ecco questo è quanto si dovrebbe fare per poter apprezzare le acque se questo messaggio che alla fine non è così complesso come sembra si potesse trasmettere sempre di più al pubblico sicuramente potrebbero apprezzare molto di più le nostre acque minerali che veramente ne abbiamo tante e le dobbiamo anche dico valorizzare perché come è stato sottolineato dai relatori che mi hanno preceduto questa mattina sulla italianità e sulla genialità che abbiamo noi è vero lo riconosco anch'io e quindi hanno sollevato un tema importante perché noi abbiamo una marcia in più rispetto agli altri paesi perché abbiamo una cultura molto più profonda soprattutto quello che è il settore dell'alimentazione delle bevande abbiamo quella genialità che altri non hanno e riusciamo sempre a fare qualcosa di meglio quindi quello che abbiamo dovremmo riuscire dovremmo veramente valorizzarlo di più perché è quello che fa la grande differenza rispetto a tutti gli altri a tutti gli altri paesi prego ci hai dato una lezione di acqua che è veramente interessante allora io ringrazio ringrazio Giuseppe che ci deve lasciare ma ringrazio soprattutto il nuovo tavolo di relatori ringrazio Carlo Cracco che è arrivato nonostante molti impegni lo tenessero però grazie Carlo ringrazio Marco Sacco chef del Piccolo Lago Moreno Cedroni anche lui è arrivato Vittorio Fusari chef del Pond de Fer Claudio Pasquarelli di Claudio Libergeggi e i giornalisti i comunicatori che interverranno più dopo quindi Nadia Rossi Luigi Caricato e Gigi Tagliafico di Top Italian Chef Carlo Cracco cominciamo da te noi abbiamo pensato di affidarti un tema che è quello la materia da sola non basta cosa ci vuole oltre alla materia per essere performanti comunque per avere un posto nella ristorazione di alta qualità oltre alla unicità alla selezione della materia e alla capacità di utilizzare le tecniche cosa ci vuole ancora buongiorno a tutti la materia prima è un po' come l'aria che respiri se è buona stai bene se la materia prima è buona già voglio dire uno è già ben disposto il problema è non è tanto trovare la materia prima si fa fatica non è semplice però si trova il problema è capire come valorizzarla nel senso che faccio un esempio banale ma ho una bottiglia d'olio molto buona visto che ho a fianco Luigi il problema non è avere l'olio buono l'olio buono va bene ma devo capire come usarlo come abbinarlo come tirarlo fuori per cui il problema è sempre molto più grande di quello che può essere la questione per cui la materia prima va bene come diciamo base di partenza che già sembra un dato scontato ma non lo è perché capire quando una materia prima è buona e quando invece una materia prima media è difficilissimo bisogna avere molti paragoni bisogna avere molta esperienza bisogna avere un buon palato capire chi hai davanti perciò c'è tutta una indagine che non finisce mai una volta che l'hai portata a casa lì poi arriva diciamo l'esperienza per cui se ho la capacità di leggerla di interpretarla di trasformarla perché la materia prima è la base per cui io poi ci devo tirare fuori un piatto chi fa ristorazione può scegliere di servire un piatto molto semplice fatto con solo materia prima zero tecnica e ha fatto un grande servizio c'è chi ha delle capacità in più molto più complicato cerca di aggiungere qualcosa a questa materia prima che può essere un'esperienza può essere un abbinamento può essere una cottura può essere un taglio può essere un qualsiasi cosa ma che comincia partendo da un elemento per arrivare a trasformare e a far diventare un piatto che è la cosa più complicata perché fare un piatto sì non è difficile tutti dicono sì vabbè fare un piatto no il problema non è fare un piatto il problema è che tu non è che compri una melanzana compri delle melanzane perciò devi trovare il modo di valorizzare questi prodotti e devi soprattutto servirli fare un piatto non è difficile farne 100 è già più complicato cosa cambia nulla cambia solamente l'organizzazione mentale e l'approccio che uno ha e deve avere se fa un piatto o se ne fa 100 ma cambia completamente perché fare un piatto giusto con magari due chili di materia prima voglio dire se proprio non è un asino ci arriva da due chili tirare fuori 20 porzioni ecco che già qui diventa già più magia no diventa già più il gioco delle tre carte perché perché è difficile perché ti devi immaginare che cosa puoi fare come lo puoi valorizzare senza mai togliere l'attenzione da quello che aggiungi perché quello che aggiungi serve solamente come corollario al piatto perciò il pomodoro adesso dico degli ingredienti ma la cipolla piuttosto che il resto deve essere intorno e se ho preso delle melanzane buone anche la cipolla deve essere buona non è che vado a prendere la prima cipolla che capita magari un po' che è lì da un mese fuori all'aria e non sa più di nulla perciò se prendo bene una cosa teoricamente dovrei prendere tutto il processo bene perciò che sia un olio un grasso che sia un erba che sia un accessorio tutto quello che ci vado a mettere a fianco è conseguente alla prima scelta per cui lavorare con materie prime buone è sì facile ma comporta anche un grande rispetto e una grande umiltà perché devi cercare di non sovrastarla la devi tirare fuori e se tu riesci a tirarla fuori hai fatto un servizio che poi è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni se invece arriva davanti la tecnica il taglio il condimento tutto quello che diciamo dovrebbe stare dietro ecco che allora sei molto bravo tecnicamente ma potevi anche risparmiare qualche soldo e lo facevi con un'altra cosa questo perché per far capire poi che la cosa fondamentale non è tanto comprare delle materie prime buone questo dovrebbe essere già nel DNA di chi fa questo mestiere è che devi comprarle buone ma che siano anche costruttive per cui se decido che compro faccio un esempio biologico cerco di prendere biologico e cerco di trovare nei prodotti che vado ad acquistare una continuità una chiamiamola fede se prendo poi dei prodotti e faccio un esempio sempre banale ma prendo un olio raffinato che non è un olio buono per carità non sarà nemmeno cattivo ma prendo tutte cose buone poi ci uso un olio magari vecchio raffinato che non ha nessun valore ecco che mi casca tutto il palco per cui spesso e volentieri uno dice sì sì no no ma io compro tutto fresco tutto materia prima buona e poi dopo magari lesina su sui dettagli e quello è sbagliato perché perché alla fine è vero che hai messo nel piatto delle cose buone ma allo stesso tempo non sei così diciamo convinto di quello che fai perché poi alla fine il primo olio che capita l'hai messo sopra e allora lì viene da dire no come l'hai fatto con l'olio lo puoi fare anche con tutto il resto per cui credo che la materia prima sia un po' il buongiorno del mattino che deve essere sempre bello sorridente possibilmente un buon approccio dopodiché bisogna cominciare a lavorare cominciare a lavorare vuol dire sempre condividere rispettare e valorizzare se uno lo fa in maniera seria e seria non vuol dire che non fa il furbo ma vuol dire lo fa sempre in quel modo difficilmente sbaglia perché è un approccio è una e questo lo si riconosce tantissimo nelle cucine no l'approccio è questo si fa così si fa così si fa così tutto il resto via si toglie brutte abitudini si tolgono difetti si correggono l'importante è sempre mettere davanti il lavoro ma in maniera con una visione futura grazie 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 Carlo per per l'approccio imprenditoriale oltre che professionale con il quale hai descritto il tuo il tuo rapporto con con la materia prima grazie ancora Marco Sacco il chef Piccolo Lago Verbania a te la parola buongiorno buongiorno a tutti il il saper selezionare il saper selezionare parte a ritroso noi siamo selezionati dal nostro pubblico è pubblico che decide di venire nei nostri ristoranti e quindi che cosa ci spinge noi a lavorare sulla materia prima sul prodotto e su delle logiche di presentazione dei nostri piatti che facciamo è la nostra curiosità che abbiamo io penso sempre che i nostri menu e le nostre selezioni di prodotti partono da dove lavoriamo da dove abbiamo la locazione del nostro ristorante io ho un ristorante storico di famiglia su un'acqua fantastica che è il lago di Mergozzo ecco come faccio a convincere un cliente di Milano a venire a fare 100 chilometri di auto a venire nel mio ristorante lo faccio con una selezione e quindi con una selezione di prodotti ma con una selezione di cultura soprattutto io penso che selezionare non sia solo il prodotto ma sia proprio l'insieme del ristorante e quindi una comunicazione che andiamo a fare a 360 gradi quando ho cominciato a lavorare io con mio padre lui aveva tutta la sua clientela locale quelle delle belle famiglie che venivano a mangiare alla domenica no l'ospitalità classica italiana e poi disse a mio padre ma io voglio fare qualcosa di diverso voglio imparare voglio capire che cos'è una ristorazione diversa e lui mi dice bene impara vai ricordo che mi disse io ti do tre anni di tempo vai ti fai tutte le tue esperienze e poi se voglia torna al piccolo lago queste sono le chiavi questo è il grembiule e fai il tuo percorso allora ho selezionato di andare nei grandi maestri approfittavo della stagione bassa che era l'inverno per andare in Provenza e quando sono entrato da Rocher-Vergier e lui mi prese e mi disse chi sei tu il petit garçon dell'Italie a che tu fessi io sono venuto ti ho selezionato per venire a capire che cos'è la brigata di cucina che cosa sono le stelle Michelin come si lavora in 40 in cucina ecco lì ho fatto una mia selezione la mia prima selezione da lì ho capito che cos'era questo mondo sono rientrato dentro e ho detto ok adesso ho capito e quindi faccio il mio percorso il mio percorso poi successivo è passato da quella cucina tradizionale di grandi prodotti sì ma come dire di ampio respiro su a focalizzarmi più su quello che il contesto mi dava il piccolo lago è tutta una vetrata noi guardiamo il lago guardiamo la Val Grande dietro e guardiamo le montagne intorno e gli ho detto ma perché non inizio a fare una selezione di prodotti a fare una selezione di profumi di colori di quello che il contesto intorno alla mia cucina mi dà ho iniziato a selezionare questo questo è stato il passo successivo quello è stato il passo dove il ristorante quello di quei bei numeri pieni di quelle belle serate di grande griglie di grande mangiate con abbondanti bicchierate di vino è diventato poi un'esperienza dove il cliente di Milano viene perché viene a trovare delle cose diverse che dagli altri ristoranti io penso che la curiosità di noi cuochi per essere cuoco devi essere curioso altrimenti non potrai mai andare a cercare qualche cosa di diverso cioè il fatto di prendere la moto di fare una curva che non sai che cosa c'è dopo la curva ecco quella curiosità lì la voglia di girare di mettersi a confronto con tutti gli altri ecco quella è la selezione che tu fai che poi porti nel tuo ristorante ed è importantissimo è fatta di prodotti ma è fatta anche di equip di staff io devo selezionare chi mi sta dietro le quinte nella mia cucina devo selezionare chi mi rappresenta in sala dai sommelier in mietra ai camerieri perché è tutta un'esperienza a 360 gradi che fa la differenza poi e quindi che fa scegliere un cliente di far magari otto ore di aereo per venire a Malpensa e venire al piccolo lago rispetto a Milano dove siete in tanti io sono fuori quindi devo ragionare anche in questi termini per cui la capacità di selezionare è tanta è il prodotto ma non è solo il prodotto se noi prendiamo un esempio che è l'anguilla dove è uno dei miei piatti forti ma l'anguilla nasce nel mar dei Sargassi si divide in due ceppi uno va in oriente e uno viene in occidente e poi me la ritrovo lì sul lago di Mergozzo e poi vai a Hong Kong e queste anguilline le mangi in mille salse in tante cose ecco quella è una selezione di un prodotto ma che c'è in tutto il mondo e che la ritrovo anche nel lago di Mergozzo e che la pesco e che la cucino è chiaro che devo contestualizzarla nel posto dove sono allora diventa una caratteristica del piccolo lago di Marco Sacco ed è quello che faccio e quindi la selezione parte da tutte queste queste motivazioni che sono che sono tante e poi entri nei dettagli e parli con i pescatori parli con gli etiologi e ti rendi conto che l'ecosistema che la natura cambia e quando ero ragazzino si trovavano tanti pesce persici oggi non ci sono più oggi ci sono i gardon un pesce invasivo che ha preso piede nelle acque interne del lago di Margozza e del lago Maggiore e allora i parli con gli etiologi e loro dicono che sono cicli sono cicli naturali ma il ciclo naturale ti fa capire che devi lavorare su prodotti che cambiano in continuazione e allora il saper valorizzare il saper selezionare delle materie prime così povere e portarle a una a un sapore a un'estetica a una precisione tale per cui un milanese viene sul lago è il mio compito ma è anche uno stimolo è anche la curiosità che abbiamo ci rendiamo anche conto che la natura non ci può dare tutto quello che noi vogliamo se pensiamo solo al mondo asiatico quanto la Cina esplosa e quanta carne mangiano loro oggi hanno dovuto comprare praticamente tutta tutta la il Sud America per avere la carne ora noi dobbiamo anche capire che gli allevamenti sono importanti ma che siano importanti eticamente l'acquacoltura è importante perché la marmorata del lago di Margozzo sono rimaste poche ma se noi questa marmorata la prendiamo la mettiamo prendiamo le uova la mettiamo in incubatrice e la alleviamo noi alleviamo un pesce autoctono metà di questi avanotti facciamo ripopolamento e metà degli altri avanotti li alleviamo con le acque pure etiche in maniera assolutamente ecosostenibile ce l'abbiamo per noi ce l'abbiamo nelle cucine quindi ce l'abbiamo le avete voi pubblico e venite a mangiarlo ecco questo è anche un pensiero che dobbiamo fare perché non possiamo permetterci di pensare che la natura ci dia ancora tutto quello che noi vogliamo siamo esigenti e questo è importante ecco quindi il selezionare è complesso il selezionare è tante cose e il selezionare parte da voi pubblico che selezionate grazie ho una cosa da dire che mi sta un po' qui forse perché sono nato a San Pellegrino e quindi un paese che è diventato famoso per l'acqua per l'acqua minerale e mettendo insieme appunto il ragionamento attorno al reperimento delle materie prime al loro trasporto alla sostenibilità mi viene sempre in mente che la principale fonte di inquinamento di trasporto di derati alimentari è l'acqua e il paradosso è che ogni tanto anzi spesso ormai si sente parlare di sostenibilità di alcuni prodotti che arrivano dal contadino dietro l'angolo e la ristorazione in genere fa poco caso al fatto che l'acqua minerale appunto è il cui trasporto è la maggior forte di inquinamento quindi non capisco perché non si sia diciamo sollevata una sensibilità particolare anche da parte di voi stessi ristoratori nella così come si dice nell'interpretare un modello virtuoso di reperimento di acqua cioè l'Italia ha fonti di acqua minerale ovunque ma capita quasi sempre che ci si trovi in Alto Adige e si beva acqua minerale piemontese o viceversa se tutti scegliessero l'acqua minerale della fonte più vicina a casa si abbatterebbe l'inquinamento dovuto al trasporto dell'acqua minerale del 90% scusatemi è una stupidata ma credo che sia piuttosto importante sì sì e no beh insomma perché sì e no perché è difficile già l'acqua il problema principale dell'acqua è farsela portare al ristorante per esempio per me perché nessuno me la vuole portare perché ti dicono che costa più il trasporto che la bottiglia per cui non paghi l'acqua ma paghi il servizio poi non lo puoi nemmeno ricaricare più di tanto perché sennò passi per un ladro devi lavare la bottiglia portarla a tavola servirla è una questione di cultura sicuramente usare quella più vicino sarebbe la cosa più intelligente però è anche vero che poi esistono i marchi esistono le distribuzioni e questo purtroppo perché sennò anche il ristorante dovrebbe sempre approvvigionarsi nell'ambito locale e a quel punto però diventa limitante è un po' come se io consumassi solo il vino del mio del mio paese a questo punto noi che siamo i più grandi produttori di vino al mondo ma certo o diventiamo tutti imbriagoni o diamo un'importanza fondamentale no no ma è giusto però insomma ho fatto un intervento un po' dire etico ma io eticamente ogni volta che mi trovo in Suttirol come si dice giustamente nella terra di Herbert Intner trovo soltanto plose Kaiserwasser Remeraner scusami non voglio contraddirti ma mi sembra che lì sia successo quello che tu auspichi cioè anche perché come diceva Carlo ci sono delle delle politiche estremamente mirate che oltretutto nel caso del vostro territorio hanno portato a una percezione una connotazione di alta qualità che non dico che sia smisurata però sicuramente si tratta di acque molto buone ma ci sono altri bacini che hanno acque molto buone non so l'area di Garessio l'area di Recoaro l'area della Valtellina la Chiarella sul lago di Como cioè allora voglio dire io sono felicissimo di aver avuto ieri sera la nostra serata di gara plose perché è un'acqua che adoro però il problema delle acque che Vaccarini ha prima sollecitato è un problema sicuramente interessante semmai il problema è un altro ma non voglio qui spostare troppo sulle acque il discorso però il problema sono le acque microfiltrate cioè io ancora oggi mi trovo in ristoranti belli stellati belli importanti belli così eccetera eccetera e mi portano questa bottiglia tristissima che mi limito a guardare è vero lo stoccaggio lo spazio la logistica però ha detto prima Carlo Cracco una cosa estremamente vera tu non puoi avere soltanto la materia prima di altissimo livello supposto che la trovi supposto che abbia un origine una tracciabilità certificata e sia proveniente dal pescatore più simpatico che parla il dialetto locale in modo perfetto ed è un romantico nostalgico dei tempi passati devi anche avere la possibilità di abbinare alla qualità della materia prima altre funzioni altri momenti dell'offerta se no hai una materia prima se ne parlava ieri anche perché Aimo il grande Aimo Moroni è partito per un saluto e poi ha fatto un intervento molto interessante di 45 minuti in cui ha bene evidenziato questo fatto si nasce selezionatori e poi c'è tutto il resto se no si resta ottimi selezionatori Moreno Moreno ascolta scusate non ti preoccupare grazie per essere in tempo volevo ringraziare pubblicamente Alberto perché comunque sono vent'anni che sono qua più o meno vent'anni che lo vedo più o meno frequentemente ma insomma ci scambiamo e quello che apprezzo tantissimo è che ha sempre lo stesso entusiasmo la stessa passione di quando l'ho conosciuto la prima volta né più né meno sono passati vent'anni ma è sempre uguale per cui complimenti anche per quello che fa oggi grazie 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 Carlo bene continuiamo nella nella nostra mattinata e passo la parola a Moreno Cedroni la madonnina del pescatore e altro a Senigallia bene grazie Alberto e rinnovo ecco i complimenti che ti ha fatto Carlo perché per queste manifestazioni di cultura ecco quindi usciamo tutti arricchiti da da queste situazioni quindi nella materia prima quello che mi chiedevi è riferita un po' al contemporaneo no? c'è questa parola adesso molto usata anche un po' troppo no? noi quando proviamo queste parole che ci piacciono lo usiamo anche un po' a dismisura quindi c'è da da dividere un attimo no? se il il cuoco contemporaneo dà la cucina contemporanea è la stessa cosa vale se il cuoco è contemporaneo anche la cucina è contemporanea e quindi ecco l'argomento meriterebbe qualche ora di di discussione intanto io ho fatto un po' faccio un po' un riassunto di quello che potrebbe essere per me questo argomento perché rientra molto poi nel 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 prodotto quindi la cucina contemporanea vive del prodotto quindi allora dividiamo un attimo cos'è il cuoco contemporaneo e il cuoco contemporaneo è come diceva Marco è molto curioso e poi direi che ieri l'ho ritrovato queste parole nello scritto del maestro Marchesi all'Alma di cui faccio gli auguri e complimenti al direttore per l'apertura del nuovo anno accademico che praticamente parla di questo cuoco privo di pregiudizi e questo è molto bello quindi io aggiungo privo di pregiudizi nei confronti di ogni alimento e aggiungo dotato anche di un'ottima tecnica di base perché poi possiamo dire sì quant'è in contemporaneo questo cuoco da 0 a 10 4 5 8 quindi dipende dalla sua tecnica di base poi naturalmente questo cuoco contemporaneo riesce anche a cogliere quanto c'è di buono nella globalizzazione perché comunque questo sguardo anche alla globalizzazione al mondo alle culture alle tradizioni di altri paesi è molto importante e filtra criticamente il nuovo attraverso il proprio bagaglio quindi questo è molto importante poi naturalmente c'è un contemporaneo creativo perché uno può essere anche contemporaneo senza essere creativo non è che gliel'ha ordinato il dottore mettiamolo bene il creativo cos'è praticamente si indaga il limite culinario cioè bisogna vedere dove possiamo arrivare anche come quando facciamo le prove in cucina indaghiamo su un prodotto fino a stressarlo io vi faccio un esempio banalissimo del polpo praticamente l'ho trascurato per molti anni poi in Giappone vedendo che era trattato come un deo ho detto forse sbaglio qualcosa io e quindi c'è stata un'indagine di cottura e di stress su quel prodotto da 50 gradi in poi e guarda caso è venuto fuori che la temperatura ideale fosse a 97 gradi ma non casualmente ma perché ancora non iniziavano le bolle quindi si dice comunemente che l'acqua bolle però bolle da 98 gradi in su e quindi ecco che questo modo di indagare i limiti di un prodotto o di un gusto naturalmente è molto importante vediamo vediamo poi la cucina la cucina contemporanea la cucina contemporanea aggiungo una cosa che sicuramente in ogni epoca c'è stato un cuoco contemporaneo cioè posso dire che Paracucchi era contemporaneo posso dire che Pierangeline era contemporaneo ognuno nella sua epoca sicuramente è stato contemporaneo allora analizziamo la cucina contemporanea che mi sembra una cosa molto importante cosa deve avere cosa deve fare attenzione innanzitutto la metto al primo posto lo spreco cioè noi dobbiamo essere coerenti allora a me va bene che quella carota sia tagliata da 0,5 per 0,5 e ne devi fare un etto ma se io per fare quella carota da 0,5 per 0,5 faccio un etto di prodotto e treetti di scarto questo mi deve far riflettere allora bisogna un attimino che penso che anche se il cliente vede la parte un po' curvata della carota potrebbe andare ben uguale e magari riduco lo spreco ma lo spreco non si riduce solo così si riduce con l'educazione siccome oggi a casa noi vengono ragazzi di 20 anni non c'è più questo concetto di non fare spreco cioè non è l'epoca dei nostri genitori che quello che non mangiavi oggi lo mangiavi domani se non lo mangiavi domani lo mangiavi dopo domani e nei giovani di adesso praticamente si fa spreco si fa spreco si fa spreco a casa sembra che sia la normalità il benessere ha creato lo spreco allora noi nel ristorante io cerco di far capire a tutti quelli che poi ogni anno si formano ne arrivano altri che il rispetto della materia prima innanzitutto che il basilico vale come il caviale perché se pensi a chi l'ha coltivato al trasporto a tutto ha lo stesso valore e il rispetto di quando tu pulisci una verdura cioè puoi recuperare tutto per cosa non lo vuoi dare al cliente non c'è problema al cliente gli diamo il top però il personale mangia due volte al giorno quindi strutturiamo un menù del personale dove tutti questi recuperi siano inglobati sapete chi mi ha insegnato sta cosa? cioè è incredibile San Patrignano fortunatamente ci sono stato per cucinare ecco nei periodi bellissimi di quando si organizzava squisito quando si entrava a San Patrignano si viveva attraverso il cibo e per diverse volte abbiamo cucinato con con Herbert con i giovani ristoratori dei quali siamo stati presidenti per diversi anni tu più di me e abbiamo avuto la fortuna di cucinare per 1500 ragazzi della comunità in questa cucina grandissima ma di una pulizia incredibile dove addirittura cioè uno non ci fa caso a casa nostra non la scopa uno non la pulisce mai tutte le scoppe erano pulitissime quindi pensate a questi ragazzi 1500 persone davano la scelta di due primi e due secondi ma vi rendete conto che spreco quindi si facevano i carrelli di quello che avanzava c'era una cella degli sprechi due volte a settimana si rigeneravano gli sprechi in una maniera creativa quindi mi ricordo che chiamavano noi Vincenzo Camerucci stava lì spesso ecco per educarli e quindi questo era bellissimo allora quindi in cucina questo antispreco faccio un esempio proprio estremo facciamo le pannocchie le cicale di mare le lessiamo e poi gli tiriamo via tutto il carapace la testa con quel carapace e testa e facciamo un altro brodo per fare un sugo per il personale poi naturalmente fissati due o tre appuntamenti di recupero sprechi o sfridi il resto del menu del personale è codificato decidiamo che a pranzo si mangia una pasta una verdura cotta a sera una proteina quindi anche questo è molto importante cioè la cura di quello che mangi prima di lavorare è fondamentale poi sicurezza alimentare fondamentale la cucina contemporanea deve essere molto attenta alla sicurezza alimentare rispetto di tutte le procedure quindi ci sono stati i primi anni in cui piangevamo è arrivata la HCCP un casino è veramente la normalità applicare certe regole e questo ci ha portato avanti rispetto a tutta l'Europa noi siamo molto avanti rispetto a tutti come sicurezza alimentare salute la salute qui è diventata fondamentale la possiamo esplicare in tantissime cose pensate se riuscissimo ma con facilità a ridurre le nostre ricette sia dolci che salate diciamo del 10% barra 20% di zucchero di sale pensate che bella roba andremo a fare quindi questo ragioniamolo ragioniamo prima si parlava delle intolleranze celiaci tutto questo è iniziato quando sono arrivati i grani modificati cioè il nostro DNA per millenni è stato abituato a dei grani poi improvvisamente ne arrivano altri e quindi questo ha creato queste intolleranze quindi l'uso di grani antichi questo è molto importante nelle nostre cucine poi sostenibilità perché naturalmente è importante vedere quel prodotto da dove arriva come è stato fatto posso rispettare il chilometro zero o no posso prendere il prodotto nel posto al mondo dove sia migliore però l'importante è che sia sostenibile un'altra cosa molto importante della cucina contemporanea è la codifica cioè non andiamo più a braccio codifichiamo quello che facciamo scriviamolo fotografiamolo in modo che possa essere riprodotto dai nostri cuochi nella maniera migliore poi aggiungo io il rispetto c'è poco rispetto oggi vedo da parte dei giovani poco rispetto per la materia prima poco rispetto dei rapporti intrapersonali poco rispetto delle gerarchie che comunque ci sono in cucina poco rispetto c'è sta mania di rispondere comunque a tutti e a tutto che non funziona perché naturalmente se io dico una cosa ad uno che non va bene non è che ce l'ho con te ce l'ho col fatto che l'hai sbagliata quindi è inutile che mi rispondi è sto fatto che ti bombarono di risposte è veramente pesante quindi il rispetto quindi cibo come nutrimento concludo che il cuoco e la cucina senza pregiudizi deve essere senza pregiudizi e segue il benessere dell'uomo e della terra questo deve essere fondamentale quindi saremo ogni giorno più felici tutti quanti grazie è buono mi è sembrato un intervento molto molto bello ma anche molto attinente al tema che era stato assegnato mi è sembrato un intervento molto bello ma anche molto attinente al tema assegnato del cuoco contemporaneo su come deve essere il cuoco contemporaneo non hai detto nulla e questo mi piace molto sulla capacità diciamo come si può dire sulla creatività o sulla capacità tecnico professionale no no l'ho detto che uno può essere contemporaneo da 0 a 10 dipende dalla sua tecnica all'inizio però hai detto delle cose fondamentali diciamo su come deve strutturarsi e come deve approcciarsi alla cucina credo che anche il prossimo intervento sarà molto interessante ospitiamo Vittorio Fusari che è molto legato e legatissimo alla terra da cui proviene ma che è la Franciacorta immagino che lo sappiate in molti se non tutti che però apre gli orizzonti a una serie di contaminazioni ho visto lì che c'è un appunto con scritto contaminazioni ci parlerà dell'equilibrio della ricerca di equilibrio tra diciamo la propria esperienza personale il territorio in cui si vive la tradizione e appunto gli spunti che vengono anche da molto lontano buon pomeriggio a tutti intanto complimenti a Moreno perché ha colto alcuni degli aspetti essenziali e magari qualche volta li riprenderò il mio tema era l'equilibrio nel piatto dovevo sviluppare questo concetto ora una premessa secondo me è fondamentale oggi noi cuochi non siamo solo dei creatori operatori gastronomici che progettano dei piatti gustosi ma poiché siamo rimasti gli ultimi perché abbiamo perso nel ritmo dello sviluppo della società l'altro aspetto fondamentale che conservava il patrimonio della gastronomia nazionale che era quello del tramandarsi da madre in figlia questo aspetto ci vengono fatte e richieste delle grandi responsabilità nella nostra fase creativa per non dissipare questo patrimonio quindi quali sono gli equilibri nei piatti equilibrio da dove viene equilibrio ci fa venire in mente subito due cose bilancia e armonia quindi dobbiamo dividere un po' il concetto dell'equilibrio gli equilibri ci sono tanti per stare in equilibrio sulla bilancia già abbiamo bisogno di due cose per mettere in equilibrio e via andare con l'armonia che poi è quella di un piatto dove le cose da mettere insieme possono essere anche più di due quindi la prima cosa che definirei è dare un elenco di equilibri l'equilibrio del gusto che nel piatto è sostanzialmente fondamentale diciamo ma per parlare di equilibrio del gusto dobbiamo prima parlare del gusto che cos'è il gusto il gusto è un senso ed è il senso che la natura ci ha dato per capire ciò che ci fa bene ciò che dobbiamo mangiare quando l'uomo era raccoglitore il gusto gli serviva per scegliere le sostanze non tossiche quindi mangiare per alimentarsi e qui porta a un problema fondamentale l'equilibrio nel piatto l'equilibrio del gusto deve prima mettere al centro che il cibo è nutrimento poi diventerà arte eccetera eccetera ma la prima cosa è il nutrimento e noi ci nutriamo attraverso un veicolo che è il piacere ci nutriamo per sopravvivere e per sopravvivere abbiamo bisogno di avere il piacere di mangiare quindi il nutrimento è veicolato dal piacere questo è un elemento importante perché se dimentichiamo queste cose possiamo fare tutti i discorsi etici morali ma non dimentichiamo che se non abbiamo il piacere di mangiare non mangiamo e questo vale soprattutto lo immaginiamo quando qualcuno è ammalato quindi questa è una cosa importante ricordare il linguaggio del piacere quando si pensa all'equilibrio in un piatto e per fare questo vi dico due esempi di due piatti dove il centro è la nutrizione che sono due piatti semplici il pinsimonio è un'insalata e il nutrimento delle vitamine è veicolato da un grasso che è l'olio extravergine di oliva almeno per la nostra cultura che rende accettabili al nostro organismo le vitamine che sono liposolubili senza olio non sappiamo che farcene di queste verdure oppure la pasta e fagioli molecole semplici che messe insieme creano proteine nobili sono due piatti straordinari di una semplicità assoluta fanno parte della cultura e la tradizione questo ci permetterà di capire come la tradizione è diventata importante quando è il frutto di generazioni che hanno costruito questo progetto e questo percorso il secondo equilibrio è un equilibrio sensoriale questo è altrettanto importante il nostro primo approccio al cibo è l'allattamento e cosa ci troviamo nel seno cosa ci troviamo è il sogno in qualsiasi cuoco dare tutte le sensazioni che un bambino prova all'allattamento cioè arrivare a quella perfezione cosa vuol dire trovare di dentro li troviamo calore odore amore sensualità soddisfazione dei bisogni pace e sicurezza questi poi dobbiamo mettere tutti nel piatto per trovare degli equilibri nel seno della mamma ce l'abbiamo già e lì tra l'altro comincia un percorso altrettanto importante nasce la memoria che è uno degli elementi fondamentali che noi dovremo trovare avanti perché quello che mettiamo nel piatto dovrà andare a stimolare questo percorso l'altro equilibrio è un equilibrio estetico l'estetico non è casuale si ispira spesso a volte alla pittura all'architettura e l'architettura di un piatto e la cromaticità di un piatto va alla vista abbiamo l'olfatto un altro dei sensi che ci permette poi di captare a distanza e quindi di creare quella piacevolezza dei succhi gastrici che entrano nel nostro stomaco e cominciano a far funzionare e vanno al cervello e ci creano il bisogno di mangiare e la voglia di mangiare sono distanti sono ancora prima del gusto e questa parte sensoriale dell'olfatto la troviamo magari negli abbinamenti o nelle cotture dove riusciamo a sviluppare gli odori questo è altrettanto importante perché quindi abbiamo già un approccio al piatto un equilibrio del piatto che viene stimolato ma viene stimolato a distanza poi andremo a trovarlo di nuovo nel gusto questo è quello che io chiamo l'equilibrio estetico poi come diceva prima giustamente Morino abbiamo un equilibrio etico ambientale perché etico ambientale? perché magari è un equilibrio che non è immediatamente percettibile ma noi sappiamo che se rispettiamo questo equilibrio etico ambientale lo diceva anche Marco noi avremo degli ingredienti che hanno più gusto e sono più complessi perché queste sono le cosiddette materie prime e lì abbiamo poi il concetto della valorizzazione di che cosa? di alcune tecniche di cottura o non cottura di quelle che chiamiamo energivore cioè che hanno un intrinseco risparmio di energia per esempio si citavano stamattina le fermentazioni le conservazioni le cotture a basse temperature eccetera indipendentemente dall'uso del sottovuoto oppure no le cotture a basse temperature sono molto più vecchie dell'uso del sottovuoto ma le fermentazioni sono molto più generali di quando noi pensiamo che siano solo un mondo orientale pane e salame sono l'origine di queste cose tanto per capirci ma dai crauti ad altre cose ai cetrioli alle cose e così via alle papacelle che vengono conservate in una città alla giardiniera eccetera noi abbiamo una serie infinita di fermentati che parte della nostra tradizione senza avere nessun bisogno la freschezza di un prodotto è altrettanto importante ma è altrettanto importante anche sapere questo tipo di percorso che sono un modo di cucinare senza uso di energia o con basso uso di energia e questo crea biodiversità benessere salvaguardia del paesaggio agricolo e marino e questa è anche una responsabilità che i cuochi hanno perché essendo i fruttori finali di un percorso che riguarda l'intera società se usano questa attenzione comunicano questa attenzione e la comunicano attraverso i loro piatti c'è un equilibrio economico perché noi siamo gli interpreti di un territorio qui il concetto è molto importante molto complesso perché con la creatività noi riusciamo a mettere insieme piacere e responsabilità che devono convivere per proteggere la comunità le risorse naturali le culture tradizionali contro la standardizzazione contro la banalizzazione contro l'industrializzazione dell'alimentazione che sono un po' l'elemento che ha dominato e cambiato in questi ultimi 40 anni dopo la seconda guerra mondiale l'equilibrio un po' del pianeta noi se li scopriamo nell'equilibrio li scopriamo attraverso la natura e la bellezza è uno degli strumenti per arrivare all'equilibrio e l'ultimo cosa l'ultimo aspetto che vorrei dire è proprio l'equilibrio e le contaminazioni cosa sono le contaminazioni? è lo scambio di conoscenza tra i popoli che è fonte importante di crescita culturale adesso abbiamo la paura dei migranti eccetera eccetera contrario la crescita culturale funzionale è riconoscere esperienze e tradizioni metodi che ogni popolo e religione usi e costumi cioè tutto questo è noi abbiamo una nostra cultura ma la nostra cultura oggi si è arricchita nella cultura degli altri perché abbiamo avuto la possibilità di accedere alle conoscenze degli altri e quindi oltre a portare avanti la nostra cultura la nostra tradizione siamo riusciti a comporre una cultura più complessa proprio perché avevamo messo insieme le culture di altri popoli e le abbiamo trasportate sulla nostra ovviamente mantenendo le nostre radici ma siccome noi non siamo delle piante fura mandole noi abbiamo imparato anche a volare quindi in questo senso noi abbiamo la necessità di avere una radice e di affidare sviluppare la mente e questo è l'aspetto creativo ma questo è l'aspetto anche di che cosa del grande rispetto di tutte le generazioni che hanno costruito le sapienze intere del mondo l'uomo è l'unico persona l'unico essere vivente a parte qualche batteria che forse però non sappiamo bene come funzioni che sa vivere al polo nord e all'equatore con la stessa identità cioè prendendo dalle materie prime la capacità di estrapolare di sopravvivere di trovare piacere nel cibo anche attraverso pochissime risorse e questo vale per tutti ecco perché la cultura di tutti è importante e la somma di questa cultura è un arricchimento per qualsiasi forma tradizionale e allora cosa mi viene da dire cos'è per me l'equilibrio non lo so io dico che è un insieme di ingredienti che si rispettano si esaltano si fondono generando nuovi piatti cioè perché questo perché questi nuovi piatti siano in grado di evocare le memorie perché la memoria è il percorso che ogni cuoco deve fare per trovare la capacità di esprimere se stesso e non di copiare altri e soprattutto di dare emozioni alla gente e questo equilibrio è fatto sì dalla sapienza del cuoco da queste materie prime che siano capaci di interagire tra di loro e poi io aggiungerei infine dalla possibilità di creare una squadra dentro a una cucina dove tutti i ragazzi che collaborano e non solo il capo tra virgolette a costruire questo piatto perché ogni piatto soprattutto in cucina complessa è fatto dalla collaborazione di tante persone grazie grazie Vittorio a proposito di memoria passiamo la parola adesso a Claudio Pasquarelli che di memoria ne ha un po' anche lui una cinquantina d'anni di di memoria di attività di attività il tema diciamo l'argomento specifico è creare il proprio modello di business attraverso il reperimento diciamo appunto la la scelta di come selezionare le materie prime quindi da un bel po' di anni io so che Claudio nel momento in cui chiude il ristorante diciamo il periodo di chiusura si è allungato di alcuni mesi negli ultimi anni prende parte e va a cercarsi delle materie prime anche un po' in capo al mondo adesso ci racconterà qualcosa rispetto a questa sua grazie io vorrei partire qui in sala abbiamo forse una scuola alberghiera e mi fa piacere perché io sono partito proprio dalla scuola alberghiera e mi ritengo un uomo fortunato e felice perché sono riuscito a realizzare il mio sogno che era da ragazzo costruire un albergo ristorante e lavorare nell'hotelleria a 360 gradi partendo dove da una piccola osteria trattoria che ho comprato con gambiali non ce n'era soldi e di lì ho capito la trattoria cosa mi ha lasciato cosa mi ha dato mi ha dato la semplicità del piatto la freschezza il recupero e il risparmio questo è mio rimasto tutta la vita perché quando uno ce l'ha poi dentro per risparmiare si fa di tutto e comunque abitualmente usavamo un prodotto buono di materia prima che andavamo a comprare un po' dopo cioè sul mercato si andava alle 8 alle 9 perché prima compravano i negozi e poi dopo andavi tu e compravi a meno per cui tutto questo serviva per far sì che potevi dare da mangiare un pasto agli operai facevamo per 10 15 anni ho lavorato con gli operai io credo che eravamo a 250 lire 200 lire cose del genere e però se ne faceva tanti per cui abbiamo lavorato per tanti anni con i miei in questa maniera qui e poi dopo abbiamo costruito il mio sogno e questa semplicità è rimasta ancora nel piatto il risparmio assolutamente anche e come diceva Elio in questi anni qua io mi sono specifico che ho lavorato sempre e solo pesce per cui carne molto poca molto limitata perché sono di mare perché il mio quadro davanti al ristorante è solo mare e mi ha dato sempre la possibilità di fare una cucina animale e siamo sempre concentrati sul pesce io non credo che sia così importante da chilometro zero al mondo intero io sono abitualmente vado a comprare il prodotto dove c'è perché non posso pensare che a Bergeggi un paese piccolino dove non ci sono i mercati vicini dove non c'è ristoranti dove non ci sono alberghi arriva dalla roba bellissima arriva quello che c'è allora devo andare a cercare perché se voglio un astice devo andare in Bretagna allora in questi ultimi anni mi sono fatto qualità e freschezza comprando direttamente saltando tutti gli intermediari cioè sono partito sono andato in Bretagna mi sono ho conosciuto dei fornitori importanti con questo modo qui abbatto i costi bisogna pagare subito perché così danno sempre la roba migliore il giorno dopo i soldi e hai la roba migliore è lì giusto e tutti i tempi si accorgono è logico che spreco mesi per andare a prendere questo dalla Bretagna oggi noi compriamo direttamente in 12 ore ci arriva la roba per cui sono i mercati che fanno a Milano ecco io ho evitato il passaggio di due uno due grossisti compriamo i pesci bianchi branzini ottonni o tutto quanto tra la Francia e la Spagna perché lì ci sono i pescherecci noi non abbiamo pescherecci e noi stiamo a dire che ci sono i pescherecci dove sono i pescherecci cioè in Luguria non ne abbiamo allora dobbiamo andare a comprare i branzini e tutto il resto dove ci sono lì hanno una fornitura di pesce stupenda e uguale nello stesso modo loro passano quei tir con carichi per portarli a Milano e si fermano a Savona io vado sull'autostrada questo però è una vita che si sta facendo questa vita possono passare alle due di notte alle quattro di notte alle cinque di notte e dobbiamo alzarci e andare lì con la macchina a prenderci i nostri pesci questo è un piacere che mi fanno questo mio amico grossista e roba del genere però devo saltare giù come salto giù per la Bretagna per tutti perché noi abbiamo una strada che non passa un camio per cui dobbiamo andarcela a prendere in tutte le maniere lo stesso le ostriche di Lerici che adesso dopo cent'anni le hanno rifatte per noi è importante ostriche di Bretagna ostriche di Lerici va bene un giorno facciamo quelle di Lerici un giorno facciamo quelle della Bretagna e tutto questo serve per far sì che comunque il cliente abbia sempre delle novità noi siamo questo lo faccio anche per essere preparato perché di fronte a un cliente che arriva e vuole e ne sa ormai sono preparati tutti per cui dobbiamo essere più preparati di loro come i collaboratori che vengono a lavorare i ragazzi che vengono in stage vedere tutto questo pesce fresco trattato poi bene tutto quanto questo è importante perché dalla Bretagna mi prendo tutti gli astici blu mi prendo tutto il conchiage ci prendiamo la balone la balone ad esempio ce l'hanno solo lì è una conchiglia che è numerata per cui noi dobbiamo prenotarla 4-5 giorni prima sono tutte curiosità che forse a Milano sono normali o non lo so però per noi che siamo in un paesino dobbiamo dare un qualcosa in più al cliente per far vedere che comunque abbiamo abbiamo ci siamo mossi adesso stiamo dando facciamo un piattino con l'aperitivo ad esempio con la lingua di baccalà le tripette però se non andavo a vedere la lingua di baccalà le tripette queste cose la sua l'isola non lo sapevo neanche della lingua di baccalà l'ho saputo quando sono andato i ragazzi si mettono lì nel chiodo si piantano tutte le lingue poi le mettono in salamoi e poi le vendono quest'anno sono riuscito a averne un secchiello stupendo perché poi li facciamo fritte e questo è interessante anche per noi perché ci tiene sempre aggiornati e ci muoviamo in questo senso qua vuol dire che comunque riusciamo a vendere un prodotto buono e cerchiamo di contenere anche il prezzo e su questo io credo che il mio intervento sia veloce e conciso bene grazie 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 Claudio siamo arrivati alla tornata finale della mattinata con soltanto 35 minuti di ritardo e ora ovviamente gli ultimi sono sempre chiamati a recuperare ma so che i tre relatori prossimi hanno come altri in passato hanno avuto il dono della sintesi cominciamo subito con Luigi Caricato Luigi Caricato direttore di oliofficina a comunicare l'olio in modo corretto ed efficace grazie Luigi prego grazie Alberto io sono molto contento di questo incontro perché è un incontro ricco di contenuti a me non piace quando la cucina viene trattata con spadellamenti bisogna sempre essere chiamati a riflessioni continue e soprattutto a rimettersi in gioco per cercare di superare dei pregiudizi e io che tratto l'olio devo dire che è pienissimo di pregiudizi Carlo Cracco ha detto una cosa molto importante che appunto ci sono dei piccoli particolari che fanno la differenza non si può lasciare diciamo non si può lesinare sui dettagli non puoi mettere il primo olio che capita ecco questa riflessione può sembrare banale ovvia non lo è perché poi guardando la realtà sia dei consumi domestici che dei consumi fuori casa l'olio è proprio trascurato come anche l'aceto tutti i condimenti perché vengono ritenuti a torto marginali tranne ovviamente coloro che hanno una grande attenzione per la materia prima e quindi nessun particolare viene diciamo sottovalutato però se noi consideriamo gli acquisti in Italia ci sono grandi consumi sul piano quantitativo quindi c'è un consumo pro capite elevato e noi consumiamo ogni anno 600.000 tonnellate di olio quindi una quantità notevole e tuttavia gli italiani acquistano male nel senso consumano d'apitudine l'olio ma non sanno selezionarlo sono incapaci di selezionarlo e questo anche accade purtroppo diciamo là dove ci sono dei fruitori professionali soprattutto quando la cucina non è naturalmente l'alta cucina ma è la mensa scolastica e diciamo quella cucina ordinaria di chi poi frequenta abitualmente questi luoghi e allora bisogna recuperare il concetto di valore della materia prima e l'olio è fondamentale allora io parto con delle precisazioni intanto che la qualità come oggi noi l'abbiamo non sarà mai vista nella storia è vero che ogni epoca ha la sua qualità ma quella di oggi è diciamo la qualità migliore possibile immaginabile perché c'è una tecnologia nuova per cui non c'è più una distinzione tra i vari oli di minore qualità o di eccellenza semmai oggi possiamo fare una distinzione tra olio democratico per cui tutti possono naturalmente provvigionarsi di un olio a costo basso ma di qualità perché è genuino in che senso di qualità perché ci sono olivicolture che consentono l'abbattimento dei costi di produzione nel senso che come noi ci siamo abituati all'idea che le uve possano essere raccolte con delle scavallatrici queste macchine enormi che appunto riescono a ridurre i costi così anche l'olivo può essere raccolto con queste macchine che superano gli alberi ovviamente sono alberi più piccoli e con l'abbattimento dei costi la materia prima è garantita perché l'oliva è matura al punto giusto quindi l'olio è altrettanto buono ecco noi però abbiamo un problema che è quello italiano di avere una configurazione naturalmente una situazione che è molto complessa dove soprattutto è in collina e in montagna che si svolge l'olivicoltura soltanto l'11% dell'olivicoltura italiana è in pianura e questo comporta naturalmente una problematicità notevole e poi c'è un altro grosso problema che non c'è materia prima noi non abbiamo olivi non abbiamo olio parliamo sempre dell'Italia paese dell'olio però noi abbiamo un fabbisogno interno di 600.000 tonnellate come consumo annuo ne esportiamo 400.000 quindi l'Italia ha bisogno di un milione di tonnellate e invece quest'anno ne abbiamo prodotte 200.000 tonnellate quindi capite benissimo che c'è naturalmente un limite piuttosto grosso ecco partire da qui è molto importante perché proprio su questi numeri si basa un errato convincimento che l'olio appunto che viene da fuori per esempio è un olio cattivo che è sbagliato tutti i luoghi producono ottimi oli li producono in maniera da caratterizzarli perché ci sono tante cultivar tanti tipi di olive differenti varietà si dicono queste cultivar quindi noi dobbiamo avere una visione come appunto ha detto con molta chiarezza Pasquarelli bisogna prendere la materia prima dove c'è e soprattutto se noi dobbiamo importare dobbiamo semmai preoccuparci di importare bene un aspetto che io trovo inquietante quando si relegano per esempio sugli scaffali gli oli come oli comunitari che è come dire un po' razzistico quando in realtà dovrebbero essere una selezione dei migliori oli d'Europa perché la qualità c'è ovunque e quindi bisogna selezionarla quello che occorre fare nella ristorazione io l'ho scritto già alla fine degli anni 90 nelle mie varie rubriche sui giornali e cosa è emerso che purtroppo nonostante io abbia scritto in largo anticipo cosa bisognava fare non è stato fatto parlare di carta degli oli può essere anche esagerato tantomeno il discorso del carrello degli oli invece sarebbe utile come intrattenimento prima che arrivino le varie pietanze all'estero questo accade e poi oggi rispetto a quando scrivevo sul finire degli anni 90 le bottiglie non sono più da litro o da 750 ml o da 500 ml adesso ci sono delle bellissime bottiglie anche da 100 ml o addirittura da un volume inferiore una capacità inferiore che consente quindi un impiego dell'olio senza che la materia prima si rovini perché il problema del passato per chi ha tentato la strada della carta degli oli era che aprendo delle bottiglie queste ovviamente si ossidavano perché l'olio teme la luce l'esposizione alla luce è inevitabile in un ristorante teme il calore e quindi anche questi elementi sono proprio gli elementi che più incidono sul decadimento della qualità allora bisogna riflettere su rimodulare un po' questa presentazione e presentarlo diciamo l'olio come qualcosa di molto importante invece viene purtroppo sottovalutato e allora presentare per esempio tutte le cultivar per farle percepire nella loro differenza è fondamentale perché poi a poco serve dire noi abbiamo un patrimonio di biodiversità di 538 cultivar ma poi se l'olio è soltanto genericamente l'olio viene banalizzato il concetto stesso di questo diciamo orgoglio tutto italiano quindi bisogna un po' centrare il discorso anche sulle modalità io ho scritto forse 4 anni fa un libro molto importante dove ho diciamo messo in evidenza il codice degli abbinamenti perché il problema degli oli è che nessuno sa utilizzarli perché gli oli vanno pronunciati al plurale perché non soltanto c'è il fruttato leggero medio intenso ma ci sono tanti altri aspetti tattili kinestetici quando l'olio quindi entra in contatto con altri alimenti si creano delle reazioni chimiche e quindi si sviluppano dei sapori differenti quando per esempio alcuni dicono io non posso utilizzare degli oli dal fruttato intenso perché copre il gusto di altri alimenti è vero in parte perché in realtà è un problema di dosaggio perché nessuno sa naturalmente utilizzare nel giusto dosaggio gli oli in funzione della tipologia di fruttato e soprattutto di percezione tattile e kinestetica quindi bisogna fare questo lavoro la mia proposta era quella di creare un tavolo intorno ai condimenti perché viene penalizzato anche l'aceto non soltanto l'olio e quindi valorizzarli creando così delle strategie differenti rispetto a quanto è venuto oggi in Spagna hanno letto i miei articoli perché ho collaborato anche per riviste e collaboro per riviste spagnole e hanno creato un centro in cui sperimentano i vari oli sulle varie pietanze secondo i vari metodi di cottura ecco questo in Italia non è accaduto non esiste un centro di sperimentazione che porti avanti non soltanto il discorso sugli oli ma anche su altri alimenti quindi partire da qui sarebbe molto importante decisivo per ridare valore a un prodotto che in realtà lo ha perso per strada perché non è più l'olio come veniva considerato un tempo oggi abbiamo soltanto un'idea sbagliata distorta dell'olio ne parliamo bene non lo conosciamo lo usiamo anche piuttosto male tranne naturalmente coloro che sono molto bravi e quindi sopperisce la propria bravura la propria competenza ma guardando nella complessità sia nel consumo domestico che nel consumo fuori casa quindi da parte del fruttore professionale c'è una carenza grave da colmare grazie 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 per per la sintesi grazie Luigi Caricato e l'ultimo il penultimo intervento Nadia Rossi mi spiace la penalizzazione dovuta ai tempi ma sono certo l'intervento sarà interessantissimo quantomeno arrivo non per ultima come fa in genere il caffè dunque io volevo cosa che non hai fatto tu fare un po' una summa di quello che è stato detto indispensabile usare buone materie prime dobbiamo essere eccellenti selezionatori dobbiamo fare cultura del cibo manca il racconto dobbiamo essere comunicatori di nuovo diamo il nome corretto al prodotto che offriamo la memoria una cosa interessantissima l'equilibrio tutti questi sono elementi che sarebbe interessante vedere applicati al caffè ringrazio per questo intervento perché il caffè immancabilmente è l'ultimo della cena è l'ultimo considerato anzi non è in genere considerato come ingrediente è forse una via di mezzo tra una spezia un appendice quasi dovuta al pranzo alla cena e ce ne accorgiamo quando usciamo con aromi incredibili in bocca spesso ci succede anche in ristoranti ai me molto molto quotati difatti il titolo di questo intervento è fiore all'occhiello esperienza da dimenticare una cosa che mi colpisce è che spesso troviamo recensioni moltissime recensioni ormai il web ovunque ci offrono mille recensioni sui locali troviamo piatti troviamo descrizioni di tutto vini eccetera se tutto va bene il giornalista ci dice di aver bevuto un caffè ma se va bene a volte ci fa una foto di una tazzina se tutto va bene con la crema in superficie se no con la crema rotta e questo ci fa capire quanto poca cultura del caffè ci sia nessuno mai ci ha detto che in quella tazzina ha trovato degli aromi possiamo trovare degli aromi speziati degli aromi di frutta secca degli aromi di cioccolato eccetera perché nessuno ce lo racconta e perché nessuno ci racconta che ogni tanto in quella tazzina trova legno sacco terra rancido perché il caffè è lo stesso problema dell'olio il caffè a contatto con l'ossigeno ahimè comincia a reagire quel chicco verde che in un primo tempo era pressoché insensibile a tutto lo potevamo maltrattare in tutti i modi l'abbiamo trasportato in sacchi di juta gli abbiamo fatto passare tutto di più ed è rimasto più o meno stabile nel momento in cui tosta nel momento in cui aumenta di volume cambia il suo colore quindi si inseriscono varie reazioni comincia a rilasciare CO2 scusate anidride carbonica e comincia ad essere assetato affamato quindi richiama acqua e ahimè gli oli che prima erano nel suo cuore e vanno in superficie il rancidiscono a contatto con l'ossigeno quindi è un prodotto molto delicato che richiede molta attenzione ma soprattutto è un prodotto assolutamente ricco è ricco quanto lo è per esempio il vino abbiamo origini varietà ci hanno abituato ad arabica robusta l'arabica è più buona della robusta ma non è sempre soltanto vero abbiamo delle pessime arabica così come delle eccellenti robusta quindi andiamo a capire cos'è il prodotto quanti ristoratori hanno messo le mani in quel verde hanno provato ad assaggiare e odorare il verde quanti hanno poi seguito la tostatura hanno scelto perché ormai le torrefazioni ci danno anche questa possibilità una propria miscela se la sono creata aprono il sacchetto e guardano quei chicchi perché quei chicchi ci dicono qualcosa attraverso il loro colore l'ho stato troppo chiaro aiuto avrò dei problemi l'ho stato troppo scuro aiuto ne avrò altre avrò solamente amaro in tazza mentre equilibrio anche un buon caffè soprattutto una buona miscela di cui noi italiani siamo gli ideatori e siamo veramente dei paladini incredibili nel mondo è la miscela e una miscela deve essere equilibrata se una miscela ci lascia amaro e solo amaro in bocca è una pessima miscela sarà una miscela bruciata la prendiamo è tutta lucida benissimo diciamo che è sudata vuol dire che è troppo cotta troppo tostata quindi ci lascia un amaro e cancella qualsiasi pregio ma anche qualsiasi difetto e forse qualcuno esagera un po' proprio per per questo poi abbiamo le singole origini qua per esempio qui a fronte abbiamo lo stand di Milano che ce ne offre quattro sono voci soliste ognuna con le proprie caratteristiche possiamo avere del fruttato dell'agrumato dello speziato ma come il caffè ha questo ma cosa hai messo nel caffè no ogni origine ha una sua caratteristica l'Etiopia quelle spezie non sono state aggiunte quelle spezie fanno parte del suo gusto originale quindi possiamo dare veramente un'armonia di gusti e di sensazioni fantastiche alla nostra clientela l'ideale sarebbe una carta del caffè non vogliamo ma almeno in fondo al menù non mettiamo solamente caffè o espresso proviamo a mettere due note prima di tutto cosa offriamo poi magari mettere anche due o tre note magari un paio di singole origini due o tre note sulle loro caratteristiche per esempio in genere all'uomo piace molto il caffè intenso forte eccetera la donna vuole qualcosa di più leggero c'è il cliente che vi dice no 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 io a cena a fine cena guai non dormo più benissimo ma sappiamo che i caffè hanno diversi contenuti di caffeina se prendiamo la classica miscela italiana con parecchia robusta sarà molto ricca di caffeina se prendiamo un 100% arabica soprattutto se d'altura il mitico caffè di montagna aveva un suo senso e là ecco che sarà molto più povera di caffeina quindi anche chi ha un po' paura della caffeina la potrà bere perché il rapporto di caffeina tra ricca e robusta spesso è esattamente la metà aiuto qui qualcuno mi mangia il caffè ha bisogno di essere presentato ha bisogno di qualcuno che sia il suo ambasciatore lo chef magari me lo identifica il sommelier spesso è un ottimo presentatore io ho seguito dei corsi con sommelier stupiti di trovarsi di fronte alla ricchezza del caffè di scoprire che il caffè è un prodotto che veramente sa esprimere gusti aromi intensità incredibili i primi anche a saperlo recepire e a saperlo trasmettere quindi fare cultura fare cultura del caffè può essere anche un ruolo del ristorante non rende non rende fino a un certo punto il bar ce lo vende a un euro al ristorante lo posso pagare tre anche quattro se però mi tratti davvero bene se arrivi e mi dai un bel caffè filtro perché sono straniero e me lo fai lì davanti perdo tempo forse ma ci posso guadagnare e soprattutto il mio cliente uscirà con quel bell'aroma quel bel sapore che si porterà lungo nel tempo il caffè del ristorante può essere anche un qualcosa da raccontare perché ho fatto una scoperta accidenti ma sapevi sai che non sapevo ci fosse un caffè così buono dolce e soprattutto così bilanciato non era solo amaro c'era altro dentro questo è far cultura e togliere quella memoria di amaro amaro che ci deriva dal primi caffè che i nostri nonni o bisnonni bevevano erogato con le macchine a vapore che erogavano a altissima temperatura e quindi uccidevano tutti gli aromi prima abbiamo parlato di olio in bottigliette da 100 grammi per non rovinare benissimo abbiamo spesso con le singole origini questo problema abbiamo detto il caffè rancidisce nel giro di pochissimo perde gli aromi lo sentiamo vecchio lo sentiamo stanco lo vediamo anche perché la crema fa fatica a formarsi abbiamo una un nuovo prodotto una nuova tecnologia che ci può venire incontro e che è la cialda o la capsula quindi il prodotto è racchiuso si può conservare più a lungo ed esprime le sue caratteristiche magari un buon compromesso non sarebbe male la classica miscela in grani anche perché abbiamo anche la brigata non c'è santo anche loro in genere vogliono il caffè quindi il chilo di caffè bene o male ce lo facciamo fuori nell'arco di una giornata anche se abbiamo pochi coperti e magari le singole origini in in capsula perché si possano conservare più a lungo e perché portino in tavola un gusto pieno un come dicevo da raccontare infine per piacere non fateci entrare in ristoranti e di nuovo anche belli stellati con tramogge sporche macchine che sanno di catrame più che di altro la macchina va pulita forse uno chef pulisce le sue pentole forse la macchina espresso e il macchina caffè sono le pentole più o meno sono le pentole del caffè e vanno pulite ogni giorno la macchina espresso ogni due tre giorni il macchina caffè perché solo così potremo fare in modo che da quel chicco venga fuori il meglio in quei due minuti che possono esaltare un prodotto e ci possono regalare quel fine pasto che ci porteremo a lungo nel tempo ma con piacere grazie 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 allora grazie grazie a Nadia Rossi fra quattro minuti dovrebbe partire la successiva tavola rotonda in sala Bramante e anche l'altra abbiamo due tavole in partenza le spostiamo di 15 minuti partiranno le 14.15 e ora Gegi Tagliafico top italian chef ha l'ultimo intervento della mattinata di qualche minuto grazie Alberto sarò rapidissimo cercherò di recuperare in uscita il tempo grazie ancora top italian chef è nata da una pazzia di circa dieci anni fa inizialmente abbiamo avuto un supporto dall'alma da Andrea Senigallia e abbiamo quindi coinvolto grandi chef italiani tra cui due sono presenti una Moreno Cedroni e Marco Sacco poi altri tra i primi che hanno aderito Antonio Canavaciolo o Gennaro Esposito che cos'è? nulla in realtà è un incontro che abbiamo avuto con loro partendo proprio dalle materie e quindi abbiamo detto creiamo qualche cosa che possa portare a piatti possibilmente belli possibilmente interessanti e contenuti corretti e aggiungo anche senza spreco quindi seguo molto bene quanto ha detto il grande Moreno quando parlava di sfruttamento della materia di evitare i consumi sbagliati eccetera il titolo attribuito è aggregazione tra chef e comune passione per la materia quindi che cos'è la materia direi tutto partiamo dal cuoco che è materia oggetti materie prime comportamento e risultati quindi con l'estrema sintesi velocità passo avanti e quindi materia è tutto quindi quello che noi mangiamo è frutto della materia celebrale in questo caso di un cuoco della sua equipe nonché delle materie prime quindi io credo che si debba fare una valutazione globale noi crediamo molto nei talenti italiani tant'è vero che ci siamo rivolti a loro dieci anni fa e per fortuna un grande gruppo di cuochi ci ha seguito andiamo avanti con loro sperimentiamo sperimentiamo anche qui materie e materie nuove e da loro impariamo moltissimo abbiamo iniziato proponendo loro alcuni prodotti che sono in linea con quel cadetto Moreno quindi permettono di contenere per esempio gli zuccheri noi abbiamo iniziato addirittura 25 anni fa in Italia promuovendo le prune della California che permettono in cucina di ottenere grandi benefit tra cui quello della riduzione ad esempio dell'uso dello zucchero e tanti altri poi siamo passati alla frutta seca anche qui abbiamo avuto un terreno molto fertile con dei grandissimi interpreti ripeto qua ne abbiamo due che è della frutta seca che non ha spreco perché non diventa vecchia non ingiallisce non si butta via contiene poco spazio si riescono a creare delle situazioni devo dire di grande interesse per quanto riguarda il contenuto dei piatti per la struttura stessa e anche per l'estetica recentemente sono sempre nei tempi ancora un minuto e mezzo recentemente siamo approdati alle farine la farina è l'essenza della vita del grano e via di seguito naturalmente parliamo di farine italiane naturalmente parliamo di un'industria che ci segue che è il mulino denti con la quale presenteremo la linea di farine top italian chef quindi anche questo è un elemento di aggregazione una materia che unisce grandi chef medi chef e persone come tutti noi nella creazione di qualche cosa che è materia naturalmente anche in questo caso il design è importante il design come la funzione che lo accompagna stessa e quindi un altro elemento materico che abbiamo assieme a Royale preparato recentemente sono devi chiamarlo Royale perché io l'ho chiamato Royale e mi hanno sgridato allora chiedo scusa a Royale non sto schifando è rettifico e quindi la conclusione più recente è stata quella di collaborare nella preparazione di alcuni piatti che poi hanno aggregato e sono diventati materia importante per i grandi cuochi che hanno trovato un supporto per comporre le loro creazioni quindi concludo dicendo che la BMW era nell'anno precedente quando abbiamo partecipato al lancio della BMW no no ci mancherebbe al lancio della BMW serie 7 e allora abbiamo disegnato un piatto che riprendesse la calandra quindi talenti italiani cucina industrie importanti italiane che ci supportano materia comune e anche materia di supporto che permette di concludere questo ciclo sono stato nei tempi 4 minuti ho sforato di 40 secondi chiedo scusa grazie 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 Luigi ci salutiamo grazie Grazie.